salve oggi parliamo del peggy sue come potete vedere è una vera e propria valigia vintage maniglia aprendola avremo un bellissimo giradischi 33 45 78 giri questo è il tasto naturalmente dovete collegarla prima alla corrente elettrica la parte posteriore tramite il trasformatore qui abbiamo tutti i programmi per il funzionamento un'entrata usb l'entrata sd e la cosa bella è che aprendo questo vano possiamo inserire il cd quindi ascoltare anche le musiche da cd questo facciamo una prova questo è il volume per darlo diminuirlo naturalmente varie impostazioni potete ascoltare la musica massiccia compatta le studio all'universo la cosa importante anche da chiusa lontano dalla sua città nella parte inferiore con una parte posteriore naturalmente potrete ingerire il trasformatore ottimo prodotto consiglio di acquistare per gli amanti dei dischi e del dello stile vintage che ci sono stati